Nell'incavo del naso troviamo le cervicali e poi scendendo si posano i dorsali, lombari, l'osso sacro e il coccice sulla punta. Buongiorno! Buongiorno, avevo un appuntamento? Ok, sì sì sì. Allora, lei mi ha detto che qui per imparare in particolare la ripresologia facciale per l'apparato osseo, giusto? Posso articolare muscolare? Ok, perfetto. Allora, io le voglio un attimo. Lei è già venuta qui, no? Sa più o meno cosa è questa pratica da chi ne ha sentito parlare? Ok, quindi è un po' la prima volta. Non c'è problema. Le spiego un po' proprio brevemente come funziona, come è nata questa pratica della riflessologia facciale vietnamita. Le spiego proprio il meccanismo semplicemente dietro e poi andrò a vedere la mappa che servirà a lei e anche una mappa generale, giusto per farsi un'idea. E dopo praticherò tutto su di lei e lei potrà poi praticarsi da sola questi massaggi, queste pressioni. Questa pratica di riflessologia facciale è nata in Vietnam nel dopoguerra, circa nel 75. Questo perché all'epoca non c'era troppa possibilità di essere curati. Quindi il maestro Bui Quoc Chau ha messo in pratica questa tecnica per poter dare la possibilità alle persone di autocurarsi, di aiutarsi da sole perché appunto c'era poco aiuto da parte degli ospedali e da parte della sanità. Quindi, come funziona? Immagino appunto che ci siano delle mappature su tutto il viso, quindi dei disegni su tutto il viso, ce ne sono veramente tanti, anche specifici per ogni apparato, per ogni esigenza. E in Vietnam, ancora oggi, le persone praticano un'ora al giorno di questi massaggi per curarsi e per riequilibrarsi. Quindi, immagina che ci siano mappature in cui sono rappresentati tutti gli organi interni. Ti faccio vedere ad esempio questa, che è quella che andrò a praticare su di te. Questa è la mappatura Young e si va a colorare con le dita o in questo caso userò questo appunto di un pennello per fare pressione. Quindi, oggetti di tutti i giorni non c'è bisogno di prendere qualcosa di specifico. E andrò appunto a colorare questa zona. Come se andassi a colorare questa zona. Come vedi la testa, le spalle, le braccia, le mani, le dita, colonna vertebrale, cosce, polpacci, piedi. Quindi, immagina che per ogni organo ci sia un dipinto da colorare, da pitturare. Come funziona? Nel cervello c'è una zona in cui ci sono tutti, c'è un database che raccoglie tutte le informazioni degli organi. Quando si colora un'intera zona, il messaggio arriva al cervello dove c'è un database con tutti gli organi. E se qualcosa non corrisponde, se c'è qualcosa che non funziona, il sistema nervoso periferico va direttamente nell'organo con un problema a comunicare. E quindi a dare un input e a riequilibrare il sistema, a riequilibrare il suo percorso, il suo circolo. Quindi tutte le riflessologie funzionano in questo modo. E lo so, è molto interessante ed è anche molto pratico. Quindi adesso passiamo appunto alla parte pratica. La faccio appunto su di lei. Le faccio vedere semplicemente i punti che andrò a farle vedere per prima, che sono dei punti generali. Come vedete, uno, due, tre. E adesso andrò a spiegare a cosa corrispondono tutti questi punti. Direttamente sul suo volto. Quindi adesso le lascio il posto, si sieda pure qui. Si rilassi e però stia anche un po' concentrata. Perché appunto dopo lo dovrà applicare su se stesso. Bene. Ora passiamo alla parte pratica. Ho spiegato un po' la tecnica e l'origine. Adesso andiamo a vedere i punti esatti. Ok? Quindi... qui. L'intestino tenue. Poi abbiamo il punto due. La vescica. E anche l'altra parte. Il punto tre, qui, fra le sopracciglia, sopra il punto del naso, è il fegato. Quindi semplicemente si va a digitare la pressione qui. Si può fare sia col dito, sia con qualsiasi oggetto che possa applicare una pressione leggera, che non graffi, ma precisa. Poi quattro, sopra le sopracciglia, sia destra che sinistra. Abbiamo il cuore. Quindi tu, da questa parte qui. Nella zona delle occhiaie, qui, abbiamo i reni. Quindi semplicemente anche qui guardate i movimenti. Poi, sesta zona. Le tempie corrispondono alla cistifellea. Quindi sia destra che sinistra. Qui il massaggio più facile. Ed è appunto anche un po' detox. Lo stomaco è sotto i reni. E in questa zona è anche da questa parte lo stomaco. Quindi qui ci sono i reni che finiscono qui e qui parte lo stomaco. Ottava zona, i polmoni. I polmoni sono nella parte bassa della guanza, formano un triangolo. Qui. Qui. E anche qui. Qui. Ho un bel triangolo. L'intestino grasso invece. E sulle linee. Qui. Ho una zona. Molto semplice anche questa a ricordare. Ok. I genitali sono qui sul mento. Tutta questa zona. Ricorda che la zona va colorata, quindi io ti sto facendo vedere i bordi. Però dovremmo semplicemente andare a... Come se questo fosse... Questo è un pennello, però. Come se fosse un dipinto. Andare a colorare tutta la zona. Ok. E l'undicesima è il pancreas. Il pancreas va su tutto il naso. Quindi anche qui. La pressione deve essere giusta, né troppo intensa da far male, ma neanche troppo leggera in modo che poi non abbia effetto. Quindi queste erano le zone che ti ho fatto vedere prima. In modo molto breve, ma oggi andremo a focalizzarci su un apparato in particolare. Che è l'apparato osteoarticolare muscolare. Come ho detto, l'apparato ha questa forma. Questa mappa si chiama mappa Yang. E viene rappresentato un signore con una posizione col volto appoggiato e con le braccia aperte. Le gambe invece sono piegate. Un po' a rana, diciamo così. Quindi, la testa è su questo spazio qui. Tondeggiante. Quindi andiamo a colorare. Si può fare, ripeto, anche con le mani, con le dita. Poi, per essere più precisa preferisco farlo con una punta. Poi, le braccia si distendono, si appoggiano sopra alle sopracciglia. Quindi, qui abbiamo il braccio destro. Andiamo a colorarlo. E qui il braccio sinistro. È proprio una forma naturale. Testa e braccio. Immagino proprio questo corpo. Finito il percorso delle braccia, sulle tempie troviamo le mani. E nella zona verticale dell'attaccatura di capello troviamo le dita della mano. Quindi, qui. Mani. E dita. Nell'incavo del naso troviamo le cervicali. e poi, scendendo, si posano i dorsali, lombari, l'osso sacro e il coccice sulla punta. Quindi, di nuovo, cervicale. Quindi, di nuovo, cervicale, un gol in capo del naso, sulla radice. Qui. Dorsali. Lombari. Osso sacro e coccice. Su entrambi i lati scendono i paravertebrali. Quindi, qui e qui. Semplicemente qui è più facile con le dita. I paravertebrali. Quindi, andiamo a colorare la zona della cervicale. E poi andiamo, pian piano, a colorare il resto della colonna vertebrale. fare questo tipo di massaggio, questo tipo di tecnica, tutti i giorni. È un'arma molto potente perché, appunto, si può fare in autonomia. Quindi, può essere veramente una forma di cura con potenzialità alte. Ok. E infine il coccice. E adesso andiamo sui paranasali. E quindi andiamo a colorare il lato del naso in questo modo. Tra l'altro, è anche una coccola proprio per il viso. Quindi, dovrebbe neanche essere troppo impegnativo. Anche se ovviamente è più bello quando trova qualcun altro, però. È sempre anche un atto d'amore per noi stessi. Le narici, per similitudine, possono rappresentare le natiche. Quindi, i paravertebrali, le natiche. E poi il contorno delle narici, rappresentano il cingolo pelvico. Poi, com'è naturale che sia? Come ci immaginiamo che sia? Ora, le gambe scendono proprio con naturalezza. Lungo il solco labbiale. E si incontrano qui. Quindi, prima parte, ci sono le cosce. Poi, al confine con le labbra, partono i polpacci. Quindi, andiamo a colorare questa zona. Le cosce. Anche dall'altra parte. Anche questa parte è molto semplice, molto intuitiva. Insieme alle braccia e alle spalle. E da qui iniziano i polpacci. Si incontrano proprio qui. Sotto, alla bocca, nel lingo. Ok. Perfetto. E qui troviamo talloni e caviglie. Quindi questa zona. Andiamo a colorare tutto. Anche di qua. E talloni e caviglie. Il mento, invece, rappresenta i piedi. Quindi andiamo a colorare il mento. Ok. L'ultima zona che andiamo a trattare è tutto il bordo osseo sotto al mento, che rappresenta le dita dei piedi. Tutto qui. Va a stare rilassando anche questa zona. E coloriamo. Nella mappa Yang, sia le mani, sia i piedi, sia le dita delle mani, sia le dita dei piedi, sono rappresentati molto lunghi, leggermente deformati. È come se si adattassero un po' alla prospettiva, non saprei come dire. Quindi la testa la troviamo paradossalmente grande, come le mani. che poi non è che ci sia molto differenza. Io spero che questo tutorial, questo insegnamento, mi sia piaciuto, mi sia rilassato. e spero che potrà usufruire di questa sua nuova conoscenza per farsi del bene per cui si è da sola. Quindi, se avrà altri problemi ad altri organi, così le insegnerò delle altre mappe specifiche per il viso, in modo da poter fare dei massaggi specifici, ma se proprio intanto puoi usare la mappa generale, quella che l'ho fatto vedere all'inizio. Io spero che questa esperienza le sia piaciuta, auguro di rivederla per imparare nuove cose. Grazie.